Cari amici buonasera, che periodaccio! Io partirei da questa considerazione e poi vorrei fare tutta una riflessione che sento sempre più necessaria. Da adesso in poi il virus più grave non sarà il Covid-19 quello che ci attanaglia e dovremo combattere. Io credo che il virus più grave adesso sia un virus politico, un virus di impostazione proprio, di organizzazione politico-sociale che ci sta devastando tutti quanti. Chi se ne accorge prima, chi se ne accorge dopo, chi se ne accorgerà, ma purtroppo all'analisi il dato di fatto è questo, che ci sono milioni e milioni di persone che non sono affatto contente, anzi molte sono disperate delle scelte di questo governo, scelte proprio non solo più discutibili ma deprecabili adesso, adesso è proprio ridicolo, adesso bisogna partire non più col pennello dolce, adesso bisogna un pochino denunciare e accusare le nefandezze delle scelte di questo governo, perché ne va della nostra nazione e ogni cittadino italiano, io sono un cittadino italiano, quindi quando parlo dell'Italia parlo del mio popolo italiano, rivendico il diritto di poter dire la mia Italia, il mio popolo italiano non può essere vessato in questo modo da quattro personaggi che in questo momento hanno il potere, un potere non assolutamente voluto, se non in una prima fase iniziale, un po' farraginosa, ma adesso è una commedia, non è più una cosa seria, adesso basta, ogni emergenza ha una sua fine e adesso questa deve finire, dovremo ritornare a vivere nella nostra nazione con la sovranità data dalle elezioni, dall'espressione del voto e un'assunzione di responsabilità di ogni cittadino e non una subire i diktat illogici, perché è di questo che vorrò parlare, di questo governo. il virus politico nasce da un agente patogeno, cioè da una proteina, non lo so, da una cellula negativa e la cellula negativa di questo virus politico risiede nella negazione della logica, cioè la grande assente, ma questo è gravissimo, la grande assente in questo periodo storico in generale, in particolare adesso in questa fase e nell'espressione di questi governanti è l'assenza di logica, non della razionalità, perché sono molto razionali, ma non sono logici, perché la logica, come ho detto in qualche altro video tempo fa, per me è quasi un dono divino, che è dato a tutti, ok, perché il logos, il logos in principio era il logos, questo lo dicono le filosofie, lo dicono le religioni da migliaia e migliaia di anni, bisogna crederci perché insomma è una storia che va avanti e andrà avanti sempre così, ok, chi non parte da un logos è già acefalo, parte da un nulla e quindi va verso un nichilismo e quindi è tutt'al più razionale, ma non sarà mai logico, chi parte da un logos userà la razionalità come strumento, ma non la deificherà mai, non diventerà mai la razionalità capace di reggere la governabilità per esempio di uno Stato, ma fa reggere qualsiasi cosa, è la logica che regge tutto, la razionalità è uno strumento, faccio un esempio, una sedia è un prodotto logico che si costruisce con dei gesti razionali, quella è la razionalità, di per sé non costruirai mai una vera sedia senza la logica. Allora perché dico questo? Perché la logica è la grande assente, leggendo questo articolo, che adesso non ve lo leggo tutto, comunque è un articolo del Sole 24 ore del 28 novembre, quindi ormai ha già due giorni, visto che adesso è tardanotte, le prime ore del mattino del 30 novembre, e dice così, dalla consulta al Consiglio di Stato, come il governo blinda l'obbligo vaccinale, cioè come per dire noi adesso possiamo giustificare il nostro obbligo vaccinale che è un obrobrio, è un aborto, questo proprio concettualmente, e dai loro lo vogliono far reggere, quindi una cosa illogica, come l'obbligo vaccinale, la vogliono far reggere razionalmente, e questo come sta succedendo sempre anche nella classe dei giornalisti, anche quest'altro giornalista sta lì a fare lo scrivano per far reggere questi obbrovi, e dice fondamentalmente, adesso prendo due o tre cose, perché uno solo può leggere insomma, Andrea Carli, Sole 24 ore, il titolo ve l'ho letto, che, bella la premessa, una delle tesi sostenute dal popolo Novax, intanto popolo Novax è un popolo comunque, già, però va bene, è che l'obbligo vaccinale non è conforme alla Costituzione, non c'è, ma si è fatto una risatella, si sente il suolo della, come per dire me la rido di questa tesi sostenuta dal popolo di Novax, va bene, e questo insomma poi dice che ci sono dei decreti, eccetera, eccetera, e dice che vengono per appoggiare invece la validità dell'obbligo, ricordate, alcune sentenze della consulta e del Consiglio di Stato, che hanno fornito sostegno giuridico alla scelta del governo, per insomma far entrare il 15 dicembre questo obbligo vaccinale non solo a tutti i sanitari che già ce l'ha, ma anche ai docenti e alle forze, ai docenti, alla scuola, al comparto scuola e alle forze dell'ordine. E dice, quanto alla previsione dell'obbligo vaccinale, si legge nel documento, va considerato che il bene della tutela della salute, quale fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, è ontologicamente dualista, rilevando da un lato nella sua accezione individuale e soggettiva e dall'altro nella sua dimensione sociale e oggettiva, e insistono su questa interpretazione sbagliata dell'articolo 32 del primo comma. Vediamo un attimo se voglio fermarmi qui con leggere un altro pezzettino. Vabbè, ma intanto fermiamoci qui, e lo so che molti di voi che mi hanno già seguito nell'altro video hanno già sentito, ma vale la pena ripetere, sia pure in modo più succinto, sulla interpretazione di questa prima proposizione del primo comma. Ma voglio fare intanto una riflessione. Ma io dico, ma può essere che dei costituzionalisti sbaglino ad interpretare un caposaldo della loro materia, per cui vivono, per cui operano, ma la logica l'hanno persa. Prima di leggere la Costituzione devi essere strutturato bene da un punto di vista logico, perché se no non aiuta, ma qualche costituzionalista intelligente ci sarà, ma sono assenti, sono taciturni, non parlano, non frenano questa illegittimità, questa anticostituzionalità di questi decreti. Non lo fanno, quindi evidentemente li avallano, chi taccia il consente, avallano, da un punto di vista costituzionale, queste aberrazioni. Questo che mi sconvolge, è come se io avallassi nel mio mondo musicale una interpretazione degenerata di un caposaldo della musica classica come Bach o come Beethoven. Non è possibile, non è possibile parlare di questo. E perché dico questo? Perché ancora si insiste sul dualismo, sulla dualità, la posizione dualistica dell'individuo e della collettività. Ma mai nessuno, io l'ho fatto, forse qualcuno l'avrà fatto e mi è sfuggito, ma mai nessuno che definisca meglio, meglio, sempre meglio, bisogna lavorarci sul senso delle parole, la differenza fondamentale che intercorre fra queste due. Perché? Perché questi due termini, individuo e collettività, perché da lì parte tutta una definizione di questo periodo, e quindi la possibilità o meno di legiferare in un certo modo o non legiferare. Allora parto dalla fine. Per me queste leggi devono essere abrogate, questi decreti, abrogati subito, cancellati subito, perché sono sbagliati, sono sbagliati oltre che nefasti. E quindi non solo non tutelano la salute dell'individuo e della collettività, ma peggiorano la salute sia in termini morali, materiali, psichici, quindi creano ansia, creano disperazione, creano affanno, creano problemi. Quindi è proprio già, come dire, da un punto di vista etico anticostituzionale. Ma lo è anche proprio per la spiegazione teorica, teoretica che ne danno. Allora, proverò a dare per l'ennesima volta il mio contributo. Quando si parla di collettività, si parla di un pensiero. Signori, almeno amici miei voi seguite me e non seguite gli altri buffoni.